guardate hanno rubato un altro sasso ancora ma chi chi è che viene qua a portarli via non si sa la città è una scuola che si è riuscita a portarli via non si sa Grazie a tutti. Tanto adesso dovete entrare, eh? Tanto adesso lì dovete entrare per forza. Ah, le dita cazzarola. Buca mesca. Buongiorno. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.